segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te questo che accade che vediamo è anche draghi perché questo governo che poteva fare scelte anche diverse lo avete visto quanto è stato rapido sulla guerra è bastata una risoluzione parlamentare in una delle due camere per aumentare le spese militari passando da 68 milioni al giorno a 108 milioni al giorno la cosa che mi spaventa quando sento il ministro speranza della salute che dice è stato dato un bonus per i ragazzi che hanno avuto dei problemi psicologici durante 10 milioni 10 milioni di euro ne spendiamo al giorno 40 milioni di euro in più per le armi quando si tratta di fare scelte rapide il settore pubblico funziona draghi è questo il pnrr ha come ultima voce la salute pubblica la sanità addirittura superata da un tema importante che la differenza di genere ma vi rendete io mi ricordo le parole del ministro speranza devo fare nel 2021 non c'è la controparte ma ma nel 2000 anche scelte fatte sull'emergenza ma come non c'è la controparte marco ci sono delle priorità che ha avuto una potenza di fuoco mediatica però pure la sanità dovevano metterli il cappello finisco rispetto a questo il ministro speranza che è stato l'uomo dei vaccini no ha detto che la salute pubblica avrebbe avuto maggio 2021 l'aumento del 115 per cento dei medici sono diminuiti cioè hanno fatto una scelta per le multinazionali del farmaco punto hanno distrutto la sanità pubblica il covi si batte con la sanità territoriale di prossimità con la ricerca con i farmaci dati a casa e non con tachipirina vigilattesa questi hanno volutamente fatto un esperimento sociale di controllo con la vicenda dei vaccini concludo solo dicendo noi de magistris prima si candidava come capo politico l'italia sovrana e popolare per dare il senso anche di questa dimensione ha come capo politico un insegnante una lavoratrice della scuola che è stata sospesa perché non era vaccinata e noi l'abbiamo fatto apposta abbiamo dimostrato l'italia che esiste davvero e le discriminazioni che vengono fatte da questi governi questo è un argomento molto molto scivoloso ma noi vogliamo scivolare ma insomma proprio io mi sono sentito dire per dieci anni dobbiamo anche difendere scelte fatte in tema vaccinale su questo non ci piove perché certi numeri parlano chiaro volevo dire per dieci anni mi sono sentito dire sempre tutti i sindaci d'italia dipendentemente alcuni politici che non c'è un euro in casa per le armi lo dobbiamo dire questa cosa in un attimo per le armi sono trovati in un attimo la sanità pubblica che attena la vita la morte delle persone non si sono trovati questo è un dato oggettivo e i governi sono quelli siamo tutti d'accordo dobbiamo fermarci un attimo per le previsioni del tempo grazie a tutti